Ecco, dall'Argentina all'Italia, ai colori a Maranto, come ti senti di affrontare questo campionato? Bene, bene, mi sento molto bene, sono felice e contento di iniziare questa stagione qui. Io sono arrivato l'anno scorso a metà, quindi tutta questa parte della preparazione, di formare la squadra me l'ho persa e quindi quest'anno ho tanta voglia. Ancora con coach evangelisti, quindi vi conoscete già? Sì, sì, certo, è rimasta gran parte della squadra l'anno scorso, anche lo staff, quindi sì, sì, ci conosciamo e sappiamo più o meno come iniziare, però anche dobbiamo inserire i nuovi arrivi e sarà divertente anche inserire ai ragazzi. Senti, questo campionato, insomma, un bellissimo successo a fine stagione, ma un bel impegno da affrontare. Sì, sì, certo, secondo me quando si alza il livello, quando si sale del livello, ognuno deve dare di più, quindi questa è un po' la responsabilità che abbiamo ognuno personalmente, anche come squadra, di dare più impegno, di essere più pronto a questa situazione, di andare su da una categoria nuova, sarà molto importante per noi, per ognuno. Tu sai che, insomma, noi condividiamo questi contenuti anche sui social, quindi arriviamo nel mondo, perché no, anche in Argentina. Vuoi dire Forza Rezzo e Forza Sba nella tua lingua? Sì, certo, e... Vamo a Rezzo, Forza Rezzo!